benvenuti ragazzi in questo nuovo video oggi siamo qui con Alessio e proveremo la nuova modalità operazione infiltrazione ho fatto l'intro alla velocità della luce non so cosa mi succede veramente operazione infiltrazione in pratica è una modalità dove ci sono due squadre da otto e in pratica una delle squadre da otto dovrà attaccare la valigetta cioè prenderla e portarla al punto di riferimento e la seconda squadra cioè difensori dovranno difendere la valigetta in modo che non sia presa dei attaccanti sono riuscito a fare un'intro veloce nella mia prima volta come abito e proviamo la nuova modalità operazione ragazzo intanto se ne parla nello che parliamo tutto allora però ma procede ok noi orvi una valigetta top secret siamo all'attacco eh no rega perché dovete sapere che prima abbiamo provato a fare un video ma c'era il problema che lui vedeva tutto lo schermo nero ma comunque scrivetevi sul canale mi raccomando iscrivetevi anche al mio ovviamente e niente proviamo questo nome dei tanti vedi che c'è scritto cattura dobbiamo catturare la valigetta siamo 8 siamo 8 squadre contro 8 8 contro 8 4 round ma dopo saremo anche noi difensori in uno siamo in pratica siamo uno sì uno no c'è in uno in un round siamo gli attaccanti in un round siamo i difensori capito ok un altro chi lato un altro chi lato ho preso la valigetta alle ciò la valigetta ma la c'è la valigetta devo portare la giù la devo portare la da sopra il camioncino la randrà 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 alle guardie che sembra un deficiente con la valigetta così ti hai messo di rami tira una mappa ma a me una mappa ma- di un rango vinto nostro che vergogna uno schifo mi fa i nemici hanno fatto schifo però è bella sta modalità più bella di knockout e mi sembra di knockout è vero ale io ho preso una salta orale dobbiamo boxarci noi due tipo con una piramide la valigetta dobbiamo difenderla adesso la valigetta a ale fai una cosa boxati intorno alla valigetta e e mettici una piramide sopra la valigetta ok qua sotto a difendere la valigetta di bruce io ho la mitra è ma sono già qua poi 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 io riesci a salire io ho finito in massa io con un assalto li sparo mentre arrivano ma cosa aveva le pistole di deadpool si c'è gli spettri gli spettrici hanno le pistole di deadpool ale hanno preso la valigetta vedi quando ci metti a risponare ma loro sponano al camion non ha senso andare al camion dopo sponano tutti la e cioè siamo morti a parte che noi sponiamo talmente lontano dal camion che neanche c'è la valigetta si l'hanno presa e hanno l'hanno ucciso ale no 2 c'è veramente gli attaccanti sono più forti ma gli attaccanti vincono sempre non so se te l'attacco ma in realtà io prima ho vinto due o tre partite con l'esercito ecuazione aerea ma sai che ma io non prendo ruba scruda perché le mine sono tanta roba vediamo di fare qualcosa di vivo ma anche a me non carica la texture tranquillo no parlavo fatemi capire da radio a cose però siamo dei te più bella di knok per forza tutta la vita ma è bellissima ho unitato non era bruttissima però sì però anche questa c'è ma quanti contro di me quanti sì ma potevano almeno mettere lo spondi almeno a 10 secondi ma perché proprio 20 grande ale guarda che ti vedo ma hai il pompa viola al pompa del nano viola con quella texture veramente ti stavo guardando come se sapere che c'è l'ho veramente l'unico pompa del nano è quello viola in questa modalità no ti vedevo il loot vedevo le rarità come fai quando sei spectate guarda che quando mori ti imparsa inspectate finché non rispondi io vado a catturare di finire bene sono boxati guardali tutti li sono ok uno è morto ok tre morti io non chiusi tre no c'hanno pure cose infiniti c'hanno i splash infiniti fra metti lì le mine là ti prego mettile li metti le mine là dalla valigetta da difendere manca un minuto guarda che sono tutti li one boxati ceccio ferrillo che bel nome spettacolare guarda che cazzo sono guzman sto sto aiutando tutti però io te li ho killati tutti da dietro però devi correre yolo devi correre no yolo Ale se non la prendiamo prima di 20 secondi si se non la prendiamo prima di 30 secondi ale ritorna al cattura ritorna là dove l'hanno catturata dopo entro 20 secondi guarda che si sono boxati tutti qui guardali hanno preso una valigetta top ho preso io con le mine lo sai si bravo bravo un tizio l'ha presa Godo già l'ha fatto non proprio Godo se l'hanno presa se l'hanno presa Godo come un riccio no l'hanno killato l'hanno ripresa occhio sopra al tetto sopra al tetto Godo ben vinto da sopra al tetto guardalo lei in aria ok abbiamo vinto Fran ma anche te faceva schifo la modalità che c'era prima di questa si era avuto operazione carico si operazione carico faceva schifo ragazzi uuuh la digol con la generazione periodica a scudo vai mi toccava dovevo farlo cosa cosa potenziali tue armi ha una realtà superiore dovrei avere lo spasso visto che ho il pompa del manual lo spasso viola Godo no lo spasso viola sui God fra ora dobbiamo difendere noi Trampi sai che cosa ho vero ahahah con le vide un attimo a box siamo tutti ora piazza mine qui vai allora faccio questa cosa questa cosa veramente data allora metto le mine qua sopra ok tu non fare niente e poi quando ci sono qua dentro avvertimi e io faccio cadere le mine sparando qua io invece fra ho riempito di piramidi intorno alla valigetta questo è il rampino addirittura pure ah ma quella degli spettri il rampino allora io avevo messo delle piramidi intorno fra fra io sono qua dentro io ho piramidato la cosa qui Ale riesci a rompere il muro sopra e piramidarci? ok è arrivata gente qua porco schifo non avevo schifo veramente porco schifo ok uno che il lato mi stiamo facendo un pulato di God c'è uno con la minigun con noi God no che bello avere uno spammone con la minigun tra sai che per avvicinarsi dovranno che fare perché adesso viazzerò le mine addosso alla valigetta si andrea lì immagini rimangono attaccati alla valigetta che figata ma poi esplodono guarda questo qui ma cosa mi ha ucciso in un colpo? poveri sono morendo male le mie mine sono devastate come l'ho detto raga come l'ho detto guarda questo con le doppie pistole che lo va a distruggere la valigetta se non viene ripresa entro 20 secondi io lo seguo dai 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 seguilo 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 tu che lo spaz lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo 74 io l'ho fatto 74 ok compagnia che campioni io sono un botto cacchio france un botto oh sai cosa devi alzare devo impiazziare adesso io cerco di piazzare le mine durante il loro cammino va bene gli piazza le mine vicino al cannon così dovranno che fare male hanno preso una valigetta top velocizzati però e che qua vengono di brutto ok dovremmo capare se vengono il cannon quindi c'è chi sostiene che siano delle bombe limite nicerina che ha preso il miglio ma che vengono il nostro caro amichetto oh my god ma cos'è quel fucile che aveva quello strano secondo me è una nuova arma sai ho paura sia una nuova arma dai pareggio che schifo si può fare un round in più no allora c'è un round in più no però puoi mettere preparati questo è vero linger facciamo un'altra partitina qua va bene e poi iniziamo va bene raga questa era la nuova modalità e noi ci vediamo nel prossimo video non stanzo